Prima del 3D, piccole carte a sorpresa e libri animati XIX e XX secolo, è il titolo della mostra visibile fino all'11 aprile alla Biblioteca della Regione a Torino. L'allestimento propone una rassegna di biglietti e libri in cui le immagini, grazie a particolari meccanismi, si muovono e si trasformano creando effetti tridimensionali. A Palazzo Lascari si è allestita fino al 31 marzo una bacheca dedicata al berillo, minerale che prende il nome dal greco berillos, dal colore del mare. L'esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo regionale di scienze naturali, presenta alcuni eccezionali esemplari di berillo, varietà acqua marina provenienti dalla Val Vigezzo nell'Ossola.